Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È un momento di fede e di spiega in qualità. Giusto per capire che c'è qualcuno da Marfio D'Oroio, c'è qualcuno da San Giovanni, da San Nicandro, oppure? Poi, certo, giustamente c'è Foggio che sono affezionati a questo cammino, a questo momento. Quindi grazie per aver venuto poter dire con noi questo momento di parimenti, di celebrazione caristica. Diciamo che per il cattivo tempo ha favorito, perché se no si è stato un po' più caldo. E' un lavoro che ci facciamo, che ci diamo, utilizzando la categoria del cammino. E che possiamo essere persone che dal circuito, dove girano intorno, si possa passare a persone, odisti, che hanno giunto una vita. E queste persone possono avere al proprio fianco un compagno di viaggio eccezionale, che è Gesù Cristo, che è via l'Italia dell'Italia. E l'augurio che ci facciamo. Poi desidero, io purtroppo oggi non posso farmi compagnia, perché non sono riuscito a trovare chi mi sostituisce con la Messa delle Opici. E' vero che c'è qualcuno che ha qualche suggerimento a proposito, però non lo posso prendere in considerazione per suggerimento. Dice, ma per metto un altro, tanto non se ne è ancora ancora.